La New Eagles, il tuo primo gol stagionale che arriva dopo un infortuno, quindi immagino sia stata una partita molto emozionante per te. Sì, molto emozionante, pure perché è stato un gol fondamentale, perché si è sbloccata la partita. Se non ci fosse stato quel gol la partita sarebbe finita in parità, ma ci siamo portati questi tre punti a casa. Ti aspettavi questo inizio così positivo della squadra, tre vittorie, quindi nove punti in classifica? No, modestamente non me l'aspettavo, è stata una sorpresa per me e sono contento. La prossima gara giocherete contro la Panoramus, una squadra molto forte, ricca di storia. Che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita molto combattuta, perché la Panoramus è una squadra molto peggio a palla e ci saranno molti contrasti e sarà molto combattuta.